Dottore Roberto Favata, che cosa è l'acqua alcalina? L'acqua alcalina è un'acqua, ovviamente caratterizzata da un pH alcalino importante, quindi superiore a 7 e che non supera comunque il 9.5, che è il limite legale per il pH dell'acqua. Quali sono le caratteristiche importanti? Non solo di avere un pH fisiologicamente significativo, e quindi importante per detossificare, deacidificare ed energizzare l'organismo, ma nel nostro caso è un'acqua caratterizzata da un bassissimo residuo fisso, quindi, contrariamente a quanto si crede, l'acqua alcalina microstrutturata, microminalizzata, può avere ottenuto ovviamente attraverso un dispositivo medico di classe 1 un pH elevato dal punto di vista fisiologico molto importante, ma anche un bassissimo residuo di minerali. Quindi avendo così tutti e due i benefici dell'acqua, che noi possiamo a questo punto definire come realmente funzionale. Può aiutare a mantenere in buona salute il nostro organismo? L'acqua alcalina così fatta, cioè microstrutturata, microminalizzata, ma con un pH tra 8 e 5 e 9 e 5, considerato che tra l'altro nel nostro caso è regolabile, quindi in funzione dell'uso che se ne può fare, sia dal punto di vista dell'utilizzo nel campo medico come coadiuvante di qualsiasi terapia in atto, quindi funzione anche dell'approccio terapeutico in quanto veicolo di trasporto per eccellenza di tutto quello che può servire per la cura della persona, ma anche per tutte le situazioni della normalità, chiamiamola così, cioè della vita di tutti i giorni, e anche per lo sport. La caratteristica quindi di essere regolabile è molto importante per questo. I benefici sono molteplici, sono molteplici perché nel momento in cui l'acqua è funzionale, cioè è costituita strutturalmente da piccoli cluster molecolari, riesce a fare tutto quello che desideriamo, quindi trasportare, idratare in profondità, coadiuvare la deacidificazione, la detossinazione, contribuire all'apporto energetico grazie agli elettroni che è in grado di donare. Questo consente quindi un'elevata prestazione cellulare, di conseguenza un grande usilio nei confronti del sistema tampone, quindi fornire microelementi, in particolare gli elettroliti di membrana, in grado di agevolare il trasporto all'interno della membrana stessa, quindi donare potassio, contribuire al riequilibrio della pompa sotto il potassio, e far sì quindi che tutte le funzioni, le principali funzioni metaboliche dell'organismo, siano già gestite in primis dal solvente per eccellenza che è l'acqua. L'acqua alcalina di cui parliamo, quindi, ripeto, microstrutturata, microminalizzata, a dosaggio fisiologico dei minerali, in particolare il rapporto potassio-sodio è opportunamente bilanciato per avere una eccellente funzione metabolica, è creata attraverso l'unico dispositivo medico di classe 1, disponibile oggi sul mercato, in grado di dosare i minerali alcalini, in particolare i minerali alcalini nobili, in modo tale da avere esattamente il dosaggio che è richiesto per quella situazione. Quindi da una persona che non ha un'esigenza particolare, ma semplicemente vuole bere dell'acqua eccellente, come anche in situazioni che possono essere supportate, ad esempio quelle patologiche, da un'acqua con delle caratteristiche fisiologiche di eccellenza, quindi molto leggera, estremamente idratante, e soprattutto è in grado proprio di apportare minerali di membrana, in particolare il potassio e il sodio, in perfetto equilibrio tra di loro, e quindi consentire un'ottimale performance della membrana e quindi della cellula stessa. Questo dispositivo, che è certificato dal Ministro della Salute, è in grado di fare quest'operazione dopo un processo osmotico di depurazione. Quindi prima l'acqua viene estremamente ripulita, quindi in modo estremamente efficace dagli inquinanti, l'eccesso di calcite, quindi il calcare intendo, e da altri eventuali inquinanti presenti, perché ricordo che stiamo parlando in questo caso di ultrafiltrazione ad osmosi inversa. Dopo il processo osmotico di depurazione, l'acqua viene remineralizzata, appunto, in post-filtrazione, grazie a questo brevetto, tutto italiano, che consente di dosare i minerali di cui l'acqua è stata privata in sede di osmosi inversa. Otteniamo così un'acqua praticamente perfetta, funzionale, microclasterizzata, in grado di idratare con estrema velocità e quindi andare in profondità fino ai tessuti più profondi dell'organismo. Questo è il grande vantaggio, è l'ottenimento quindi di una prestazione da parte dell'acqua stessa di elevato interesse in tutti i campi, quindi come ausilio per gli approcci terapeutici, come ausilio per lo sport anche estremo, e per l'ausilio di un bere che sia realmente idratante ed energizzante.